Cominciamo dall'Ariete. Questa giornata vi è amica. Molte idee affollano la vostra mente fertile e molte si tradurranno in validi progetti legati alla vostra attività professionale. Toro, pur non essendo negativa questa giornata, lo scenario astrale segnala qualche fastidioso intoppo, come ad esempio un mancato guadagno o il fallimento di una vostra iniziativa. Per evitare guai sarà il caso di riposarvi un po' di più. Gemelli, giorno interessante per quanto riguarda il lavoro, soprattutto per chi saprà dosare i propri interventi e agire con astuzia. Non chiedete comunque troppo al vostro fisico. Cancro, vi attende una giornata movimentata con un ritmo di vita serrato che concederà poco spazio al riposo e se questa superattività vi impedirà di cadere nella noia, alla lunga potreste ritrovarvi nervosi e affaticati. Leone, potrebbe essere il momento di un salto di qualità, di promozioni, di miglioramenti, di situazioni nuove e progetti che si realizzano. Non fatevi sfuggire quindi l'occasione favorevole. Vergine, gli astri vi consigliano di agire e parlare con prudenza e di non commettere errori di comportamento o qualche leggerezza. Tali atteggiamenti infatti potrebbero in parte ripercuotersi sulla serata e sui progetti del fine settimana. Bilancia, qualcosa di nuovo e di stravagante farà il suo ingresso nella vostra vita. Potrete incontrare persone o situazioni del tutto fuori dal comune, destinate a cambiare in qualche misura la concezione della vostra vita. Scorpione, una volta celeste molto favorevole vi darà una carica notevole di entusiasmo e di intraprendenza e premierà con il successo le iniziative che prenderete. Aspettatevi quindi i risultati brillanti. Sagittario, gli astri odierni sembrano determinanti nel rendere quest'ultima giornata lavorativa movimentata anche per le faccende affettive. La situazione si prevede piuttosto agitata soprattutto per chi ha una relazione in crisi da tempo. Capricorno, concentrate la vostra attenzione sulle cose pratiche. La situazione potrebbe essere estremamente favorevole. Tutto dipenderà dalla vostra analisi obiettiva dei fatti. Acquario, questo venerdì sorride a quanti di voi hanno un'attività professionale autonoma. Le idee, i progetti che proporrete a chi dovrete, incontreranno la più entusiastica approvazione. Pesci, si prevede un umore alquanto instabile oggi. Soffrirete di inquietudine che potrebbe accendere la vostra tendenza a disperdervi in mille impegni e in una miriade di rapporti inconcludenti. Un po' di saggezza vi potrà aiutare. Grazie.